Saluto da Roma! Un caro saluto da Parigi! Saluto da Los Angeles! Ciao ragazze! Vedo che hai i capelli diversi, sei andata al parrucchiere forse. No, l'ho fatto io e ho dormito così. E' bastato solo quello per farli mossi. Quando si mangia o si beve qualcosa che ci piace, come si dice con i gesti in italiano? Così? All'Italia e all'italiano!